Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Per i lavori di rinnovo dei binari del tramotto, Ponte Garibaldi è chiuso anche al traffico privato in direzione di Trastevere. Lotto, viaggio su bus lungo tutto il percorso. Lavori anche sui binari del 3 nella zona del parco del Ceglio. La linea 3 continua a viaggiare con tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e la stazione di Trastevere. A proposito di rete tram, sono aperti i cantieri per la manutenzione del manto stradale sulle corsie tramviarie di via Bresadola e di via Premestina. Le linee 5, 14 e 19 tra Largo Premeste e i capolini aligerani e Togliatti sono sostituite da bus. Grazie a tutti!